Il segno della Vergine per voi, questa Venere in Sagittario può rappresentare un problema riguardo la famiglia, riguardo anche il rapporto di coppia, è vero che c'è un Marte molto passionale nel segno del Capricorno, ma è chiaro che questa Venere tende a far emergere quelle piccole incomprensioni che possono minare un rapporto sentimentale, non si può vivere di sola passione, insomma ci deve essere qualcosa in più per non andare avanti un rapporto e questa Venere ve lo dirà a chiare lettere, è una giornata che via via diventerà sempre più complicata, ma l'inizio, la mattinata di questo martedì, sarà davvero molto positiva soprattutto per il lavoro, andiamo alla bilancio